Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per uno che è a noi, adesso è l'ora della nostra vita. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. San Gavino, prega per noi. E anche per quest'anno ce l'abbiamo fatta, e ringrazio della nostra partecipazione. Ringraziamo il comitato uscente, e leggiamo il nuovo comitato per il 2015. Angelo Ventroni, Piero Baccio, Giuliano Mannazzo, Adriano Pirelda, Mario Lai, Fausta Ventroni, Elia Gusinu e Valeria Attis. Auguri e buon lavoro. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio, e Spirito Santo. Amm. Nel nome del Signore, restate in pace. Amm. Adesso un'altra marcetta.